Ciao a tutti ragazzi, io sono EzioTube e bentornati in questo nuovo video di FIFA Mobile Oggi siamo qui sul mio canale, ieri eravamo sul canale di Luciano, c'è il link in descrizione E invece tra 1-2 giorni saremo con un video sia sul mio sia sul suo Quindi restate sintonizzati, iscrivendovi al canale, attivando la campanella Lasciate anche mi piace al video se vi è piaciuto E commentate pure con la vostra opinione su questo giocatore di cui faremo la review Che come avete potuto leggere dal titolo e visto nella miniatura Si tratta di Gullit101att Non è nel mio account, ve lo dico subito È nell'account di Killer, un mio iscritto dai primi video del canale Quindi lui mi ha prestato l'account Ho fatto un po' di clip in versus attacco Perché purtroppo non ho potuto farlo in confronto ragazzi Perché mi laggava molto molto registrare il confronto Già mi lagga senza registrare Quindi solo versus attacco Però vi posso dire che ho fatto due partite in confronto io di mio È fortissimo E anche lui un po' mi ha detto com'è E è veramente veramente forte Come giocatore ragazzi Molti magari non pensano che essendo la TT Cioè che la TT sia così forte Però lo è ragazzi Fidatevi di me Vedete anche la review ha un tiro incredibile Comunque non vi spoilerò niente Detto questo vi lascio al video E noi ci vediamo appena finite le clip E noi ci vediamo appena 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 Ah! Il giro atto? Noi! 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 Toi! I'm a fan! Wow! I'm going to say it! I'm going to say it! I'm going to say it! Why are you? This is the best. If you have two weeks left, It's more than it! I will say it! Grazie a tutti. 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 E' messo bene. Quindi ragazzi, giocatore fortissimo. Se vi serve un ATT potete prenderlo tranquillamente. Io vi consiglio o lui, così ATT, o CC. Per il resto io non ve ne consiglio altri, però vedete voi, fate come volete, insomma. Detto questo, da EzioTube è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, bella.